bello bello Grazie. Grazie. Mi trovavo così bene. Tante foglie. Vediamo com'è. Vai. Vai Antoni. Stai capiamo gli ultimi due. Com'è? Com'è? E' con le foglie lititi. Sennò cosa riprendo? Ma c'è anche l'altra che si mette. Tre ce n'è. E poi anche quella di là. E' andata. Poi va. E' la bici qua. Iahoo. Oh cazzo. Che appare? Ma lo hanno arato. E' la bici qua. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. So che prima o poi, senti, senterai. Devi fare il saltino, no? Via. Via. Devi fare il saltino. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.